Sì, è bella, 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 ma fa piacere. Vieni, ora tutto quanto attenzione perché ora andiamo e poi ci sta la missa. Mi raccomando. Mi raccomando. La missa. Alla fine. Sono 15 anni di questa università. La lingua. No, 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 no. Sì, è bella, 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 bella. E non è un po' di salute. Piace? Sì, è bella. E non è un po' di salute. La fa tutta a gente che non ci senti. Un po' per questo. Proprio a me che sono 40 anni che vado a fare. Proprio preghiamo. Preghiamo. La libretta pagina 32. Sì, sì, 32. La libretta pagina 32. La libretta pagina 32. Tu sei sorda, l'ora no. La libretta pagina 32. Silenzio, tu sei sorda, l'ora no. Usatela, ma io sarò che non vado a fare. Allora che non vado perché non vado a fare. Sì, sì, sì. Sì, sì, che se no arriva Don Angelo e ci cacci. Allora che non vado a fare. Sei la gioia, sei l'amoro. Mai da vita è questo mio cuore. Notte e giorno, anche io penso a te. Mai da vita è questo mio cuore. Notte e giorno, notte e giorno, io penso a te. E viva Maria! E viva Maria! E viva Maria! E viva! E viva! Grillo! E viva! E finita! E finita! Ava Maria, grazie a me! 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 Guarda, grazie a me! Guarda chi è preso! Chi è preso! Chi è preso! E' preso da che la me la pezza di Filomena! No! Chi? 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 Filomena! Eh? Filomena! Filomena! Oh, ma non! Eh? Filomena! La figlia di Rocco! La figlia di Rocco! Filomena, 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 bella pezza, a parte delle battaglie, filomena, le battaglie, le battaglie, le battaglie, aram sic, porcos, d'artagnan, quattro moschettoni, signore mi chiede domani mattina a botta secca, con san 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 parole turve, con san 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 il cuore è stato colpito da... come si chiama? è stato colpito da... cupito cupito è stato colpito da cupito cuore cupito a frecci non mi incana non mi incana non mi incana non mi incana ma mai che te è religiosa ma mai la madre te è religiosa signore mio figliate la domani ma non so te lo dite fai il favore domani e forse che sente le parole di lui e forse che sente le parole di lui no 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 grazie a me che non ti raggiare a me, che non ti raggiare a me, che non ti raggiare a me! E ogni sera vieni l'amante e lui bussa, lei scende. Ogni sera viene l'amante, lui buzza e lei scende! Ogni sera viene l'amante, lui bussa e lei scende! C'era la macchina con la macchina! Lui bussa e lei scende. Lui via c'è la macchina! la mucerocco la mucerocco la macchina la macchina la macchina la macchina lui pussa e le scende e scende la macchina e muoto 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 e no e non la fate nella panela a chiusi e no e neccia mia ave maria ave maria ave maria ave maria e basta ma io non lo sai che uno viene nella chiesa e può fare un buntè piano sanno per solda capito? e c'ho grida perchè è solda signor eh 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 ma ora nero ora nero ma l'acqua ma hai ragione che c'è da un rumore ma l'acqua ma l'acqua ma l'acqua ma come te ci fai questa acita ah eh ma sei proprio ma l'acqua Lasciamo stare, pensiamo ai fatti nostri, a pregare, ma poi scusami, ma tu quando sei entrata qua? Ma non ne ho abitare un po'? Sì, ma quando mi amcazza... Mi ha detto? Svaltrina! Svaltrina, perchè non ti hai il soldo? E non si dice squaltrina quando uno non c'è i soldi, capito? Si dice, come si dice quando uno sta senza squaltrina? Si dice squaltrinata, si dice squaltrinata, scaltrinata, è bottana. Ma sono forza fazzi, ma lasciate stare queste qua, noi siamo venute qua per pregare, lasciate stare queste fatte giù, giù, giù. oh non c'è non lo so dentro la chiesa se vieno per fregato capito? se no che cristiani siamo facciamo piacere, piacere e poi ci prendiamo la comunione quando usciamo fuori te ne vengo entratano ma ci vieno a sangue però dentro la chiesa no se no che cristiani siamo lasciate stare guardate avanti e fregati, sguardo alto e preghiera io lo so e io prego anche prego anche per il nemico ma non siamo non ci stanno nemici siamo tutti cristiani sì perché è proprio base della nostra religione la tolleranza dobbiamo tollerare tutti quanti io tollero ho aperto tre case di tolleranza e poi ho fatto 40 anni di categorismo ai bambini e io poi so se chi vuole andare in paradiso deve pregare deve pregare anche per il nemico anche per il nemico non basta ma non ci sputa fino al testo non ci sputa però l'hai ringraziata che non stavo raffrontato ma non è vero non ci sputa ma non ci sputa aveva Maria viene a ricarizia a me ama Maria viene a ricarizia a me ama Maria viene a ricarizia a me non ci sono arrivati all'orazione ama Maria non ci sputa aveva Maria grazie a me aveva Maria ma tu la senti sta tutta aveva Maria ma c'era un cane e che c'è dalle cani ma quello si suona li cani si suona sempre li cani, li cuorci, di bucini, di atto no davanti la chiesa c'era Lucano ma poi c'è una merda non ti dice merda dentro la chiesa e mo te la dino e te la pulisola e poi non ti dice merda in chiesa non ti dice merda se proprio devi dire qualcosa si dice, si dice, come si dice? si dice sterco, sterco, si dice sterco hai capito? scusate la puzza, oggi accaduto uno sterco di merda si dice sterco, sterco si e non confundiamo la merda con la merda quello è l'altro che cosa merda ma voi avete troppo esagerato assai ma scutare dentro una chiesa è troppo è troppo e troppo avete ragione, è stato il momento di dolce e euforia ma no, 12 dolce e solo euforia ma non si fa e se poi pensi che lo sputo è peggio di uno schiasco allora mo le va a cantare un chiesa ma che vogliamo fare? no, ma vogliamo scrivere la parola pace pace, pace scriverla qua ma anche qua qua scriviamo allora va bene, allora facciamo una cosa io scrivo, io ho peccato, scrivo perché io ho peccato va bene, pago per tutti pago per tutti eeeh, che se non paga qua pago io per tutti ma non stiamo al bar che vuoi pagare ah, ma c'hai ragione sembra proprio troppo non vuoi dire è meglio che pago io mi pago il mio va bene? è certo, è certo mamma mia non si tratta di pagare qua qua si tratta di scrivere la parola pace con un gesto di pace devi essere una persona un po' più meno no, 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 no tu scrivi, scrivi va, scrivi sotto scrivi in coppia scrivi a dove va ma la gente è cattiva la gente è cattiva cattiva, è cattiva